crutch mindset benvenuti cari amici del canale dampa track b allora neanche il tempo di respirare no i giorni passano veloci durante sei nazioni quasi più veloci che durante il mondiale perché insomma nel sei nazioni nel mondiale ci sono partite tutti i giorni quindi è una cosa repentina no e proprio non ti lascia nemmeno respirare un paio di giorni di pausa e poi si riniziava vi ricordate nel sei nazioni che cosa succede succede che fine settimana assolutamente intenso e poi ci si butta nell'analisi nella chiacchiera eccetera eccetera e non ti accorgi nemmeno che arriva già la settimana dopo e difatti oggi per chi vede il video subito ci sarà la live dell'under 20 per chi lo vede questa sera domani ci sarà già stata la partita dell'italia e iniziano le partite di questo fine settimana e allora facciamo la preview facciamo la preview prima di iniziare ragazzi vi voglio raccontare una cosa vi avevo detto l'altro giorno delle collaborazioni che stiamo in incatenando qua sul canale del cercare per voi delle opportunità sempre più belle sempre più interessanti bene questa settimana inizia una nuova veramente molto 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 interessante per voi questa settimana iniziamo una collaborazione con nordvpn un marchio che sicuramente chi segue youtube ha già sentito nominare più e più volte perché sono attivissimi nello scovare i content creator più promettenti e ci si che ci hanno ci hanno identificati come uno uno di loro e quindi insomma nordvpn avete sotto nella descrizione del video un codice sconto da un patrambi con il quale potete avere quattro mesi gratuiti più tre mesi tre mesi da regalare a un vostro amico in occasione del loro compleanno insomma un'offerta un'offerta veramente bella occhio perché poi nel tempo potrebbe mutare quindi insomma approfittatene subito credo che sia veramente un'offerta di cui vale la pena tra l'altro sapete che le vpn servono per tantissime cose potete vedere i vostri programmi di approfondimento preferiti anche sulle televisioni straniere vi possono servire per la cyber security insomma ci sono veramente molti usi molti usi che si possono fare della vpn quindi insomma se non avete una vpn affidabile o se la volete cambiare sotto sotto in descrizione trovate il codice sconto ma buttiamoci buttiamoci sulla preview di questa giornata e allora aggiungo le formazioni delle squadre eccole qui con questa visibilità del sito all rugby e iniziamo dall'italia anche se cronologicamente l'italia non sarà la prima perché l'italia giocherà domenica domenica alle 4 molto probabilmente inizierò la preview dalle 3 molto probabilmente però prima ci saranno le partite ovviamente di oggi dell'under 20 e poi domani con le altre due partite domani il programma alle 3 un quarto ci sarà scozia francia credo che alle 3 inizierò la live e poi andremo dritti fino a concludere inghilterra galles quindi faremo una bella live di nuovo maratona partendo alle 3 e finiremo più o meno alle 6 7 8 alle 8 e qualcosa insomma un'altra 5 6 ore 5 6 ore di live ok ragazzi allora è uscita la formazione di gonzalo che sada formazione con qualche sorpresa non me l'aspettavo forse così alcune scelte forzate e i due le due new entry in terza linea ma andiamo a capire un attimo come ci schieriamo in questa partita alla viva stadium allora prima linea partiamo con fischetti lucchese anzi ve la leggo tutta per chi non l'avesse letta oggi e poi ve la commento prima linea partiamo con fischetti lucchesi ceccarelli seconda linea cannone ruzza e fin qua ci siamo terza linea isecor al blind side isecor a fare il la terza ala lato chiuso per dirla all'italiano blind side flanker juliani manuel juliani va a fare la terza ala lato aperto vi piace più così open side ditemelo nei commenti zuzzu juliani va a fare la terza la terza lato aperto michele lamaro va a fare la terza linea centro il numero otto poi varney a fare il mediano di mischia prendendo il posto di alessandro garbisi della partita precedente e paolo garbisi a fare il numero dieci con carta bianca e dopo vi spiegherò perché con carta bianca pieni poteri centri menuncello brex non si discute poi parliamo un attimo anche se menuncello brex o brex menuncello joane e pani all'ala scelta non scontata perché poi c'è capozzo all'estremo e io avevo detto ok c'era stato qualche voci di corredoio come direbbe il buon john kiwan che allen a inizio settimana poteva avere qualche fastidio allora ho detto va bene se alla non c'è mettono capozzo estremo invece al lancia e viene spostato in panchina e allora questa potrebbe essere una scelta tattica quantomeno un assetto che vuole provare gonzalo pesada la panchina la panchina nicotera spagnolo zilocchi quindi le stesse prime linee della settimana scorsa zambonine debutto di ros vincent e poi martin pascerelo tommy allen federico mori quindi andiamo con un 5 più 3 fermiamoci e facciamo un paio di ragionamenti poi andremo a leggere anche la formazione dell'irlanda e anche delle altre squadre che giocano questa settimana facciamo allora un paio di ragionamenti prima linea è quella l'unico dubbio che io potevo avere era un magari zilocchi per ceccarelli però credo che in quel reparto lì voglia dare coesione voglia dare stabilità voglia dare ritmo a chi sa di partire da impact chi sa di fare il titolare e quindi insomma onestamente poi non sarebbe cambiato moltissimo quindi andiamo andiamo con la formazione della settimana scorsa cannone ruzza idem ma tra l'altro qui non è che ci fossero proprio tantissime alternative soprattutto visto l'infortunio in settimana anche di yakizi quindi si va con cannone ruzza e si porta zambonine in panchina terze linee allora l'avevamo detto terze linee c'erano due caselle da riempire perché sia negri sia lorenzo cannone hanno dovuto dare forfe lo sappiamo negri per il problema alla costola e lorenzo cannone per un problema che è un problema alla gamba se non sbaglio che adesso non ricordo esattamente è uscita la notizia comunque la trovate nel sito della fire non ricordo esattamente l'entità del problema ditemelo eventualmente nei commenti dopo lo vado a verificare e allora come copriamo le caselle le copriamo con manuel zuliani che interessantissimo va a fare l'open side flanker ok va a fare l'open side flanker e quindi a prima gli ho detti forse gli ho detti no no gli ho detti giusti va a fare l'open side flanker l'amaro che normalmente fa il numero 7 quindi fa l'open side flanker va a fare l'otto posizione che attenzione l'amaro non è che non abbia mai ricoperto è per dire l'amaro l'amaro lo ha fatto adesso ve lo dico vado a vederlo lo ha fatto un po di volte lo ha fatto assolutamente un po di volte lo ha fatto sia in nazionale che ultimamente l'ha fatto anche al benetton per esempio mi ricordo la partita di ritorno con le zebbre dove nonostante l'amaro partisse con la maglia numero 7 la 8 ce l'aveva negri alla fine poi l'amaro è andato a fare il è andato a fare il numero 8 mentre negri rimasto flanker allora l'amaro in carriera sua l'ha fatto l'ha fatto il 10 per cento delle volte quindi un 8 9 volte ha fatto su 86 su 86 titolarità il 10 per cento delle volte viene messo come numero 8 e l'aveva fatto appunto anche il nazionale se non sbaglio nel nel 20 21 nel in quell'anno lì era stato utilizzato spesso comune come numero 8 si era stato utilizzato per tutto il sei nazioni in quell'anno lì come numero 8 in una terza linea che al tempo era formata da negri meier lamaro oppure anche con altre con altre formazioni con altre formazioni insomma adesso aspetta sono andato un po a curiosare e mi sono perso nel era sì negri meier lamaro alla prima e poi per esempio l'aveva fatto quell'anno vediamo ad esempio nell'ultima lo aveva fatto contro vediamo proprio contro l'irlanda dai come erano schierati negri meier lamaro quell'anno insomma quella era la 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 struttura piccato aver perso un giocatore come come joan meier va beh comunque ok restiamo su questa partita allora mi sono un po perso scusate lamaro quindi va a fare il numero 8 zuliani va a fare il 7 che è la sua posizione e isecor va a fare il 6 insomma quindi mettendo lamaro alla numero 8 si mantengono le posizioni naturali di isecor e di zuliani adesso per lamaro sarà un triplo lavoro triplo lavoro perché uno deve giocare in una posizione che non è la sua naturale che ha occupato ma non è la sua naturale due e anche capitano e tre dovrà sicuramente cercare di aiutare in una partita non semplice prima titolarità per isecor e e zuliani comunque titolare lo abbiamo visto più in benetton che in nazionale quindi dovrà dovrà gestirsi dovrà gestirsi zuliani dovrà capire bene le uscite isecor in tutto questo lamaro dovrà sicuramente dare una mano quindi già sei capitano quindi già hai un lavoro supplementare in più devi giocare in una posizione non tua in più devi anche dare una mano ai tuoi due compagni quindi ci sarà secondo me uno sforzo mentale e di concentrazione molto importante di michele poi in mediana varney allora in tanti hanno detto mi era piaciuto alessandro garbisi anch'io ho detto che non mi era dispiaciuto e avrei detto capella e lo avrei confermato però pensando capisco la scelta di quesada ossia quesada a parer mio come la maggior parte degli allenatori non vorrà continuare per tutto il suo ciclo nell'incertezza del mediano di mischia quindi vorrà prendere una decisione e allora se tu vuoi prendere una decisione devi conoscerli oggi come oggi l'abbiamo detto alessandro garbisi varney e pagrelo e anche fusco non sono lontanissimi e quindi gli devi dare delle possibilità gli deve dare delle opportunità e li devi verificare e i mediani di mischia io dico sempre che si verificano realmente solo quando partono titolari perché sennò poi negli ultimi 20 minuti si puoi capire come interpretano quel momento lì come danno il cambio di ritmo però se vuoi capire la possibilità di un mediano di mischia di essere titolare lo devi ovviamente far giocare titolare e allora la settimana scorsa ha giocato garbisi ci aveva spiegato che sa da anche il perché questa settimana gioca varney e non mi sorprenderei se la settimana prossima giocasse per le due settimane dopo la pausa giocasse per esempio martin pagrelo che partirà questa volta nella panchina al numero 10 paolo garbisi ho detto pieni poteri perché perché paolo garbisi in questo momento è l'unico playmaker in campo mentre la settimana scorsa avevamo giocato con tommy allen a estremo e tommy allen in in qualche maniera aveva la triplice funzione di essere il backup in caso di necessità di paolo garbisi di essere un potenziale secondo playmaker in campo anche se poi abbiamo visto che è stato più l'estremo classico partendo da dietro ad esempio con l'usap fa più il secondo playmaker a parer mio e poi era anche il calciatore disegnato invece questa volta garbisi non avrà la possibilità di appoggiarsi a un secondo playmaker perché probabilmente della linea retrata l'unico che potrebbe fare un po' di distribuzione classica ai pani ma non si userà in quella maniera e quindi si dovrà in qualche maniera incaricare lui totalmente del della regia del gioco italiano non avrà il backup quantomeno in campo e sarà lui a dover calciare quindi insomma paolo garbisi con responsabilità aumentate vediamo come le saprà gestire in una partita non semplice copia di centri menoncello brex qui non si discute in questo momento è veramente 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 difficile cambiare questa copia di centri e io lo ripeto non tanto perché uno zanon per esempio non potrebbe essere un'opzione o anche un mori un'opzione titolare ma perché menoncello brex e l'ha fatto vedere anche nell'ultima partita in qualche maniera si completano così bene che fai veramente veramente fatica a dividere la coppia e poi il triangolo dietro con ioane pani capuozzo adesso è tutto logico e vi dico quella che secondo me è la ragione per cui tanti hanno detto compreso me a mi sarebbe piaciuto vedere gesi e invece vediamo pani perché a differenza del discorso del mediano di mischia dove una posizione singola è lì che sada ha bisogno di capire chi sarà il mediano di mischia della nazionale nel caso del di pani secondo me che sada vuole testare realmente pani e di nuovo se testare un mediano di mischia vuol dire farlo partire almeno da titolare bene testare un ragazzo come pani in una posizione come l'ala in una partita dove è uscito un po con la mano in bocca nonostante una prestazione per me non insufficiente vuol dire dargli un'altra opportunità soprattutto diciamo in una partita dove si puoi andare a provare puoi andare a provare però comunque resta comunque in trasferta una partita abbastanza complicata quindi secondo me il ragionamento lì è stato sul giocatore non tanto sulla struttura non tanto sulla squadra ma è stato sul dare coerenza nelle scelte anche verso il tuo singolo giocatore e quindi dire bene ci sarà il momento di gesi arriverà anche se occhio che adesso con la notizia che c'è stata del dell'arrivo probabile per adesso paventato oggi è uscito un altro articolo di orabi che dicevano che sono molto molto vicini alla chiusura della firma e sto parlando di lineag vediamo se potrebbe rientrare già a sei nazioni in corso anche nelle convocazioni azzurre e bene lineag in più ritornerà o dog vu che stava facendo molto bene e più probabilmente un ala di un centro soprattutto in questo momento con appunto le posizioni dei centri abbastanza occupate e quindi insomma vedremo vedremo perché io credo che arriverà il momento di gesi arriverà però non sarà semplicissimo insomma perché le ali noi siamo sempre in quello in quello stato tra il dire siamo profondi e invece non abbiamo nessuno diciamo che non ne abbiamo tantissime non abbiamo tantissime qualcuno c'è perché c'è ioane c'è pani c'è capuozzo ci sono altri giocatori che lo possono che lo possono fare come lo stesso volendo lo stesso mori c'è gesi c'è bruno ceo dog vu ci sarà lineag insomma un po c'è padovani che potrebbe rientrare comunque in corsa qualche opzione ce l'abbiamo vedremo capuozzo invece va a fare l'estremo allora cosa significa che capuozzo va a fare l'estremo significa uno che probabilmente non usando come l'abbiamo detto prima l'opzione del secondo playmaker che sada vuole un estremo più frizzante più pericoloso e attenzione perché capuozzo soprattutto messo da estremo è uno che diventa pericoloso da entrambi i lati del campo ti sa leggere bene l'azione si sa infilare grandi capacità di lettura grandi capacità di finishing io lo dico qua se dovessi fare una puntatina questa settimana non ho visto ancora le quote però una meta di capuozzo una meta di capuozzo potrebbe stare assolutamente nel così nella schedina vediamo di panini abbiamo parlato ioane dall'altro lato sicuramente che sada in settimana avrà parlato a ioane sul discorso delle palle alte perché se la prestazione di ioane fosse di nuovo insufficiente da questo punto di vista iniziamo ad avere un problema settimana scorsa gli abbiamo visto fare un calcio in questa partita sarà sollecitato nelle coperture da james low soprattutto contro un irlanda che magari e andiamo a vedere la formazione adesso dell'irlanda contro un irlanda che si ama tenere il pallone in mano però poi da dietro se c'è lo spazio comunque la palla cerca di mettertela dietro al triangolo allargato soprattutto james low soprattutto james low e quindi insomma ioane sarà sollecitato da questo punto di vista sia nell'andare sugli up and under sia nel eventualmente coprire la profondità e poi sapere anche restituirlo quel pallone eventualmente in profondità non sarà una partita semplice per monti ioane e probabilmente questo è anche un test di gonzalo che sada per capire quali sono le potenzialità e le capacità di adattamento di monti ioane andiamo a vedere un po i nostri avversari avversari che all'inizio guardando la formazione è stato subito wow ci vanno giù duri poi però se ci pensi qualche assente ce l'hanno qualche cambio ce l'hanno per esempio in prima linea non c'è tag furlon in seconda linea non c'è bird in terza linea non c'è ehm van der flier qualche qualche cambietto ce l'hanno in mediana non c'è gibson park a 12 non c'è bundiachi ecco più ovviamente quelli infortunati come ring rose e e mccans quindi insomma qualche cambietto ce l'hanno diciamo che se prendessimo il 15 titolare della francia con tutti i sani eh la formazione sarebbe per otto non per otto nove giocatori differente probabilmente però insomma intanto ci sono dei punti di riferimento dei giocatori top 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 come eh mi viene in mente shian ovviamente calandoris eh handshow james lowe chinan eccetera e poi e poi c'è anche il il discorso della panchina perché in panchina noi andiamo con una buona panchina ma non una bomb squad alla treviso mi viene da dire se non alla sudafrica perché treviso quest'anno spesso spessissimo andata con una panchina veramente potente a volte anche più potente dei partenti bene invece loro nascondono degli assi nella manica in panchina come appunto gibson park eh come josh van der flier ehm noi abbiamo qualche dubbio perché abbiamo zambonin che non ha tantissima esperienza abbiamo spagnolo che per carità ha fatto io io non ho nessun dubbio su spagnolo però resta comunque il suo secondo cap ehm abbiamo Ross Vincent esordiente abbiamo Pascherello che non è tra i mediani di mischia eh più forti in Francia e comunque ancora poca esperienza con l'Italia abbiamo un Tommy Allen da verificare anche le sue condizioni e abbiamo un Federico Mori che resta ancora nonostante sappiamo tutti i progressi che ha fatto eccetera 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 ma resta ancora un piccolo punto di domanda quindi insomma nei titolari nei titolari l'Irlanda è in casa è comunque una squadra davanti poi la panchina sarà importante per l'Italia riuscire a gestirla la fase finale della partita e anche lì ci servirà un lamaro attento e non sarà una partita facile per il capitano secondo me non sarà una partita facile in generale per l'Italia però vedi mai magari magari stupiscono i bookmaker ci danno sotto con 35 punti di scarto e vediamo vediamo quello che riesce a fare l'Italia io sono fiducioso che qualcosa qualcosa di bello ce lo faranno vedere credo che segneremo credo e spero che segneremo almeno una meta e l'unica mia paura e curiosità è di come riusciremo a gestire quegli ultimi 20 minuti quando le cose cambieranno e quando da loro entrerà in campo comunque appunto gente come Gibson Park e come Van der Plier poi per carità entrerà in campo un Ross Vincent che si vorrà mangiare 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 l'erba entrerà in campo un Mirko Spagnolo entrerà in campo un Nicotra uno Zilocchi insomma tutti 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 lo stesso Paciorello avrà probabilmente molta voglia di dare quella spinta Mori tutti tutti però diciamo che loro in panchina ad oggi c'è anche Ian Anderson che avevo dimenticato ad oggi mi sembrano molto ben attrezzati ecco diciamola così andiamo a vedere il le altre squadre quindi ditemi nei commenti che cosa ne pensate un po' di questa formazione dell'Italia e di quella dell'Irlanda come leggete la partita andiamo a vedere le altre partite Inghilterra questa è la seconda quindi vediamo questa a Murrayfield alle 15.15 domani vanno in campo una Scozia che vuole ritrovarsi la Scozia del primo tempo contro il Galles e una Francia che vuole ritrovarsi il punto e basta Francia che anche oggi ho sentito la conferenza di Galtier sempre bella sempre pacato sempre emozionante anche come ad esempio ringrazia sempre i club formatori di ogni esordiente bello però è stato questa settimana assolutamente bombardato dalla stampa francese eh Galtier e che e come ha risposto Galtier la Francia intiera gli chiedeva di cambiare e Galtier ha detto non cambio sono fedele alla linea del mio progetto e quindi si ritorna in campo con Cyril Bail, Movacca, Atonio, Woky, Gabriag tra l'altro in conferenza stampa ha spiegato molto bene eh Galtier come spesso i problemi della rimessa laterale vengano ehm in qualche maniera addebitati l'abbiamo fatto anche noi la settimana scorsa al regista della rimessa laterale alla seconda linea che va a fare in questo caso Cameron Woky ma ci c'è anche un lavoro importante degli altri giocatori che devono lavorare bene per creare gli spazi per dare il giusto timing al lift quindi non è solo tallonatore non è solo la chiamata ma è proprio un lavoro collettivo di cinque, sei, sette ovviamente dipende dal dal numero di giocatori in rimessa laterale. Importante l'ha spiegato in maniera molto molto interessante e analitica. Terza linea Olivon, Cross e Aldrit anzi Cross, Olivon e Aldrit la mediana si resta su Lucu Jaliber la mediana del UBB e poi Dante Ficu ecco un altro che è stato bersagliato questa settimana è stato il povero Gael Ficu quando sono uscite le formazioni ehm la la maggior parte dei commenti erano oh mio Dio no ancora Ficu ancora Ficu mazza vercelo Ficu no non lo cambierei oggi con Menoncello non lo cambierei con Menoncello neanche con Brex ma un primo panchinaro Gael Ficu insomma non non direi non direi di no. Ehm entra Bielbierri che va a prendere il posto di Moe Fanà che invece si piazza in panchina come Impact Player Utility nel 6 più 2 di Galtier dall'altra parte Peno quello no che non lo togli e Thomas Ramos all'estremo che ormai insomma si è ripreso quel posto che per un certo momento era stato di Jaminet di Melvin Jaminet. La Scozia la Scozia presenta più o meno la stessa anzi presenta sì più o meno la stessa formazione della settimana scorsa arriva Dargi tra l'altro una cosa interessante della Scozia è che nel presentare la squadra non hanno nominato un capitano cioè si sapeva che Dargi e Russell sarebbero stati co-capitani però in partita dici chi è il capitano invece sono stati segnati entrambi come co-capitani vediamo chi andrà a parlare con l'arbitro magari dipenderà anche dalle situazioni però non so se l'arbitro accetterà di avere due persone a cui parlare probabilmente dirà no decidetevi chi è il capitano e vediamo chi uscirà anche primo nello schieramento questa questa leadership condivisa alla Tausend. Per il resto prima linea Scherman, Turner, Fagerson, Cumming, Gilchrist, Fagerson, Dargi, Dempsey, Mediana, White, Russell, Twipulotu, Jones, la solita coppia di centri, Stain, Van der Merve e Rowe ancora a fare l'estremo. Non c'è King Horn, in panchina invece c'è Ashman, Edborne, Miller Mills, Skinner, Christie, Horn, il mediano di mischia, Healy e Redpath. Vediamo, sarà una partita interessante, viene data leggermente favorita la Francia nonostante giochi in trasferta. Io non sono così sicuro che la Francia sia favorita, il problema è sempre lo stesso. Francia che è probabilmente molto molto provata sia fisicamente che atleticamente che psicologicamente, Scozia che si appoggia tanto tantissimo al gioco di Russell. E allora, quanto girerà la Scozia? Riuscirà a evitare dei passaggi a vuoto? E quanto riusciranno a dare la palla in mano a Russell? Dall'altra parte invece vedremo la Francia, perché se parte a mille, come aveva fatto anche nei primi dieci minuti con l'Irlanda, quando finirà la benzina? E soprattutto come riusciranno in qualche maniera a canalizzare in campo la delusione ancora coccente, ancora presente del mondiale? Perché quella è la grande domanda della Francia. Non l'hanno superata, non l'hanno superata. Ecco, avere dei giocatori che magari hanno vissuto meno quell'esperienza in panchina potrebbe aiutare, come Taufife Unua, come Possolo Tuilagi, come Roumat, come Lega Rek. Probabilmente la Francia è restata su quel gruppo e lo capisco, perché intanto sono i più forti e secondo Galtier non può tradire il suo gruppo, però sono feriti, sono feriti nella testa, sono feriti nell'animo e devono riuscire in qualche maniera ad alzare la testa. Potrebbe non essere semplice a Murrayfield. Andiamo infine a vedere l'ultima delle partite, anzi la seconda perché l'ultima sarà l'Italia, Inghilterra-Galles. Allora, Inghilterra con un 15 esattamente identico a quello della settimana scorsa, quindi Marler-George-Stewart, Itoge-Cessum, Roots-Ital Roots, Anderil-Ben Earl, Mitchell Ford, Dingwall-Slade, Daley-Freeman-Stewart. Quindi anche qui fiducia a tutti, fiducia anche a Dingwall che al suo primo cap non aveva fatto una partita proprio indimenticabile. Fiducia a tutti e si va avanti sulla costruzione del nuovo ciclo. Panchina. Ritorna Genge, a meno di sorprese dell'ultimo minuto come la settimana scorsa. Theoden, Genge, Dan Cole, Coles, Cunningham South, Kerr, Danny Kerr, Finn Smith e Fejivaboso. Attenzione, Gatland su Fejivaboso ha detto, gli hanno chiesto, ma come hai commentato la cosa che Fejivaboso ha deciso di giocare per l'Inghilterra? E lui ha detto, se non si sente inglese, se non si sente gallese, che se ne va da quel paese. Più o meno così, più o meno così. Un po' di polemica perché allora i gallesi hanno detto, sì ho capito, e tutti quelli, gli inglesi hanno detto, e quelli che hanno fatto il cammino, il cammino opposto, se questa cosa l'avesse detta Eddie Jones sarebbe venuto fuori l'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un po' di trash talking, un po' di trash talking pre-partita non fa male nella sfida tra gli acerimi rivali gallesi e inglesi. Galles che recupera, recupera un po' di pezzi, per esempio recupera Garrett Thomas, recupera ai centri George North e allora una formazione interessante, interessante che per me resta comunque di un livello inferiore. Comunque, Garrett Thomas, Elio D va a fare il tallonatore e a Sirratti. Poi, seconde linee con Jenkins, Duffy Jenkins, il capitano 21enne del Galles e a fianco a lui ci sarà Adam Bird. Terza linea, Rafael, Mann, Alex Mann e Wainwright. Rafael e Wainwright, autori dell'inerzia che ha dato il momentum al Galles per fare la quasi rimonta della settimana scorsa. Poi resta Thomas Williams, ma cambia l'apertura. L'apertura questa settimana sarà in mano a Ian Lloyd. Ian Lloyd. Andiamo anche a vedere il profilo totale di Ian Lloyd. Ian Lloyd Scarletts può giocare sia apertura che estremo. Quest'anno ha già fatto un 6 titolarità, 7, 8 titolarità e si è girato tra apertura ed estremo. Poi i centri Tompkins, Nick Tompkins e George North, Rio Dyers e Josh Adams Saranno le due ali e viene confermato anche il giovane talentuoso Cameron Winnett. Cameron Winnett. La panchina Elias, Domakovsky, Griffins, Rowlands che parte dalla panchina, Basham, Hardy, Evans e Mason Grady. Bene ragazzi, Calles che sembra recuperando un po' di gente, recuperando Garret Thomas, recuperando George North. Sembra un po' più solida rispetto alla settimana scorsa, però la gara sarà molto molto dura. Insomma, l'Inghilterra è nettamente favorita, devono andare a vincere a Twickenham contro un'Inghilterra che l'abbiamo detto anche con l'Italia. si è dimostrata molto competente nelle cose che contano nel rugby. Non mi resta che ringraziarvi, spero che questa preview l'abbiate trovata interessante con questa piccola analisi delle squadre. Ci vediamo per tutte le live. Prima l'Under 20, poi domani le due sfide appunto tra Anghilterra e Galles e Scozia e Francia e poi domenica chiudiamo in bellezza con la nostra Italia che va alla viva. Prima di chiudere, ragazzi, fatemi ricordare ciò che vi ho detto anche in apertura di video, ossia la nuova collab che abbiamo con NordVPN. Trovate in descrizione tutti i dettagli per approfittare di un'offerta che secondo me vale veramente la pena. Ciao, un bacio e ci vediamo questa sera in live. E poi ci sono le partite. Viva il rugby!